... Vedete, sottolineare amico che io in età della precedente votazione non so, diciamo, che cosa si è notato. Quale è il vendamento che cosa si è notato da votazione? Io non ho partecipato a nessun punto, e per tanto, insomma, io, chiaro, scusatevi, la precedente votazione di me è tutta, diciamo, non ho partecipato a nessun decreto, non ho partecipato a nessuna scusatevi, non so cosa che si è notato da votazione, è preciso che, consigliere che non si è notato da votazione, assicuramente, che non voleva utilizzare la precedente votazione in quanto, va bene, in quanto non si è trato, se io, come antico personale, si ascoltano di Dio, ma non si è trato, ma non si è trato, ma sono le mie situazioni, ma, le quali mi sono riuscitevi, non ho visto, non si aspettano la soluzione, fino a che il prescente è un'altra, la dività, la dività, la spiegazione, anche così, e anche quelli che ci cercano, io spero che ci cercano la stessa, perché, come lo sanno, io esprimo paere favorevole sulla grossa, consigliere che lo dicevo, perché io, io invece, vedete, la richiesta di sospensione, fatta da consigliere che lo dicevo, attenendo le nostre importazioni sul capo, allora, c'è di sui soldi, perché c'è una richiesta di sospensione che è evitate sulla trombone di questi prospettivi, e poi c'è il rumore di interlutti, perché provo a dire una poter discussione sul capo e intende una differenza di cui si tikrà che la generaccia non è player con qualcuno Scusate! No, non è che è un po' di dieci. Io credo che gli avvocati sono anche, diciamo, 400 del Stato che prima si abbia votato in maniera abbastanza superpeciale il ritiro del scavo precedente. Ma tra l'altro, preoccupati con il dettagliamento, tra l'altro al mio modo di vedere, anche in maniera stessa, perché è vero, sicuramente è vero, quando puntualmente dichiarato dal segretario e documentato nel... No, ma per quanto vi dirà la segretaria, quando lo so, la parla di un libro del regolamento, il regolamento del regolamento di un'amministrazione, gli emigamenti, gli emigamenti, gli emigamenti agli altri, o per cominciare a questo momento, il suo, dove deve rendersi tutti inammitticibili. Allora, ma credo che al presupposto che siamo in una organizzazione inammittibilità, il regolamento di inammittibilità, caso di esenzia, e in questo tipo di voi, mi permesso di dare il regolamento di qualche cosa. Allora, da un mio punto di vista non ci mette neanche in modazione, nella proposta di Dio e nella modazione sulle metà, perché la loro eseguola è inizibile in quanto, così estremamente per esempio dei regolamenti, il regolamento, siccome è un previsto fatto attivare l'avvocato, quando c'è una condizione di inaccessibilità, l'uomo è proprio amante, nel merito non ci arriva, non ci risponde, non lo mette in modazione e, per l'altro, preso atto della possibilità del regolamento, non lo mette in modazione. Allora, l'altro, che si dovrebbe termine anche il regolamento, se non venga tutto il regolamento e il rispondente adottare l'avvocato, ma gli alcuni, così, sono stati 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 datati da un regolamento che il regolamento non è solo favorito, che rende l'am studioso di grande caratteristica e non si usa. Amato via, hyperactica, non ma riesco e negativista siamo. Dice il tempo, sicuramente, è difficile, cambio pure vita, e la mia direzione, questa, la mia direzione, la mia direzione dal momento, da dove sia la sinistra nel mondo di esso Novo? Verrà come sei, da dove dovrebbe essere così? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.